Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di essere nuovamente qui con noi dalle sale della Biblioteca Leone di Fidenza per il secondo dei nostri appuntamenti con le storie della pittura dei pittori fidentini. Se nell'appuntamento precedente ero trattato la figura di Oreste Emanuele cercando di portare l'immagine del pittore contadino al di fuori della tradizionale visione della pittura di paesaggio locale, oggi vi parlerò di Ettore Ponzi che negli artisti legati a Borgo San Donnino è probabilmente più fidentino fra tutti anche nell'immaginario popolare perché il nome di Ettore Ponzi si associa immediatamente a Fidenza, ai suoi monumenti, alle sue strade, alle sue piazze, ai suoi luoghi iconici che ha dipinto e molti dei quali ormai, come nel caso della famosa Rocca di San Donnino, esistono solo nei suoi quadri e nei suoi colori. Allora, parlare di Ettore Ponzi significa andare molto indietro nel tempo. Nasce nel 1908, il 26 ottobre del 1908 a Borgo San Donnino, da una famiglia numerosa, sono sette fratelli e una famiglia che ha difficoltà economica, quindi il giovane Ponzi va subito a lavorare ma i suoi insegnanti notano una fortissima predisposizione per il disegno. Lo spingono a tentare di avere una borsa di studio riesce ad ottenerla e nel 1930 lo vediamo studente all'Istituto Toschi di Parma. Qui incontra degli artisti che lo aiuteranno molto nella sua formazione tecnica e pittorica, Guido Marussi, Gando Baratta, personalità importanti dell'epoca che rendono la figura del giovane Ponzi già nel 1934, quando lui si diploma, un artista completo. Da che cosa capiamo noi che nel momento in cui esce dall'Istituto d'Arte è già un artista formato? Ci sono due quadri. Uno è pensato nel 1932, ha solo 24 anni e dipinge queste capanne dello stirone che sono per me un esempio molto interessante di quella che sarà qui anche l'evoluzione della sua pittura. Capanne dello stirone è avvolta in un manto di neve che riguarda sicuramente alla pittura dell'impressionismo che tanto Ponzi amava, quindi ci sono gli echi della pittura di Monet, delle grandi nevicate di Sise, di Pizarro, quindi una pittura che possiamo già definire ample mer, ma quello che ci colpisce è la maturità che traspare nelle pennellate dense forte di Ponzi. Giovane ma già padrone di una tecnica molto personale. Tre anni dopo c'è questa nevicate invece sul quartiere Oriola di Fidenza con sullo sfondo il campanile del Duomo di Fidenza. Ecco i due temi già del Ponzi Giovane che torneranno in tutta la sua produzione artistica. Da una parte il grande elemento del paesaggio e dall'altra parte l'amore fortissimo per la sua città. Ora, la pace per i giovani Ponzi che esce dall'istituto d'arte dura poco. Nel 41, pochi anni dopo, è già in guerra sul fronte albanese. Un'esperienza quella della guerra che lo implasima fortemente, perché da una parte abbiamo un'esperienza drammatica. Fino all'8 settembre è il Ponzi che segue l'esercito italiano in Albania e dipinge dal vero, perché si ritaglia sempre il tempo per parlare quelle che sono scene di vita quotidiana del popolo albanese. Ma quello che accade dopo l'8 settembre del 43 con la disfatta dell'esercito e la scelta dei Ponzi di non collaborare con i tedeschi e di darsi la macchia come partigiano all'estero passa quattro mesi tra le montagne albanese, fra stenti di ogni tipo, finché non viene catturato da una pattuglia tedesca e mandato in campo di concentramento. Nel campo di concentramento, ancora una volta, l'idea, che è un profilo conduttore di questo mio intervento, dell'arte, l'arte che salva il mondo, l'arte che salva l'uomo, perché comunque confinato all'interno del campo di concentramento, Ponzi fa una scelta molto forte, cioè fa la scelta di resistere, di resistere a nulla della guerra diventando lo stesso creatore di arte, quindi la creazione contro il nulla. La volontà di andare oltre il momento terribile che sta vivendo si vede in tutta una serie di taccuini e di disegni realizzati all'interno del campo di concentramento, che sono un diario per immagini di quello che lui vede, i suoi compagni, i suoi amici, a volte feriti, a volte tristi, i momenti quotidiani di una vita che è scandita all'interno di ritmi che a volte portano, come lui stesso diceva, alla tristezza più profonda. Quello che lo salva dalla tristezza è la scelta di dipingere, sempre e comunque, è una decisione di rispondere alla bruttura e alla mostruosità della guerra, rimanendo umani, facendo il meglio che si può fare con la propria arte. Finita l'esperienza dei campi di concentramento, Enzo retorna a Fidenza, ancora una volta un momento importantissimo. Siamo nel 45, aveva lasciato Fidenza quattro anni prima, nel 41, quello che lui trova rientrando in città è una città completamente devastata. Non c'è più la città che aveva lasciato, non esiste più la sua casa distrutta dalle bombe. I vicoli, i monumenti sono sfregiati dai bombardamenti. Cosa fa Bonzi? Si lascia andare alla disperazione? No, reagisce ancora una volta. Lui è un creatore, lui deve creare e fa quello che lui stesso, con una parola che mi ha sempre colpito molto, dice nei suoi diari, ho piantato il cavalletto tra le macerie. Ecco cosa fa l'artista, non si lascia andare ma decide di rispondere con la propria arte. E allora nasce tutta quella serie, qui alcuni esempi, qui alle mie spalle, delle tavole dipinte direttamente che raccontano le pagine, possiamo dire, di una Fidenza che non esiste più, racconta la Fidenza ferita, la Fidenza colpita, ma lo fa come? Non drammatizzando, non enfatizzando il fatto terribile che ha colpito Fidenza, ma facendo scendere sulle rovine, sui monumenti feriti, sulle strade che non esistono più, un velo di poesia, la poesia di una pittura che ci parla di luce, che ci parla di stagioni che si alternano, che ci parla di colori che lasciano trasparire un vero e proprio gesto d'amore nei confronti di questa amata perduta che Ettore ritrova nel 45. Dopo l'esperienza della guerra Ettore Pozzi si concentra sull'altro grande tema della sua pittura, che è la pittura di paesaggio. Allora la pittura di paesaggio è rivolta prevalentemente a quei luoghi che sono i luoghi cari alla sua storia personale, in modo particolare la campagna e lo stirone di Fidenza, è un luogo mitico per la nostra comunità. Qui Ettore Pozzi è vicino ai pittori, ai grandi pittori del fiume, pensiamo a Goliardo Padova, pensiamo a Carlo Mattioli che hanno dipinto il Po, la stessa cosa lui fa in Chiara in Fidentina dipingendo lo stirone e in questo è vicino all'altro grande amico, il pittore dello stirone della nostra campagna che è Oreste Emanuelli. Ora i due artisti Fidentini, Pozzi ed Emanuelli sono associati da tante cose ma si distinguono fondamentalmente perché Aurelio nella sua pittura guarda la luce, allo spazio e cerca di rendere tangibile l'intangibile, ispirandosi, come abbiamo visto nell'incontro precedente, a Correggio. Ettore Pozzi è un pittore più fisico, più materico, nella sua pittura c'è la volontà di trattare la materia che quasi fosse uno scultore e in questo io lo associo di più a Benedetto Antena. Ecco i due poli, da una parte la luminosità di Correggio, dall'altra parte la fisicità e la forza di Benedetto Antena. In tutta questa ricerca artistica Ettore Pozzi si confronta ovviamente con i grandi maestri europei e per quella sorta di tramandi che abbiamo spesso citato io lo associo soprattutto per quanto riguarda il periodo della guerra ai war artist inglesi, cioè a quel gruppo di artisti che erano uniti da Kenneth Clark nel 1941 per dar forma alla risposta dell'arte inglese agli orrori della guerra, hanno lasciato una testimonianza molto simile a quella di Ettore Pozzi. Gli inglesi, che poi sono diventati artisti famosissimi come Sutherland, come Henry Moore, come John Piper e gli artisti della scuola di Londra, hanno realizzato una serie di tavole che raccontano i bombardamenti sulla città di Londra, sulle grandi metropoli inglesi. La stessa cosa fa Ettore Pozzi, ma quello che sempre distingue la scelta di campo di Pozzi dagli altri artisti è questo gesto estremamente poetico, questa partecipazione emotiva molto forte. Ora vorrei chiudere questo incontro, questa presentazione, con un'opera inedita di Ettore, un piccolo disegno tratto dai Suttaquini. Siamo nel 1944, campo di concentramento di Witzendorf. Ettore Pozzi disegna una testa presa da un quadro di Raffaello. Ora, in questa immagine presa da Raffaello c'è tutto il senso di quello che diceva Dostoevsky quando dice che la bellezza salverà il mondo. La bellezza e l'arte il mondo l'ha già salvato. L'ha salvato quando da una palude una comunità riesce a costruire una cattedrale meravigliosa, come la nostra cattedrale di Fidenza. Il mondo l'arte lo salva quando un artista come Ettore Pozzi, dall'interno di un campo di concentramento, sceglie di rimane umano, sceglie di rispondere con la bellezza alla bruttura e alla devastazione della guerra. In questo mi vengono in mente le parole di Tommaso Montanari che dice, l'arte è la dimostrazione che siamo radicati in una possibilità di infinito. Grazie. Grazie.